Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante. Grazie. La conduttrice bionda e vivace, nonché showgirl, Michelle Hanzeke, sta vivendo un periodo di popolarità senza precedenti. La sua attività sui social media è particolarmente intensa, spesso in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti. Quest'estate sta sperimentando per la prima volta la gioia di essere nonna, circondata da emozioni uniche, momenti di relax e divertimento. Sono in molti ad adorarla e non vedono l'ora di partecipare a uno dei suoi spettacoli. Recentemente, Michelle ha dato una notizia entusiasmante ai suoi fan. Ritornerò presto in televisione, ha annunciato con entusiasmo. Anche se al momento non posso rivelare troppi dettagli, è certo che ci saranno sia una possibile apparizione a striscia la notizia sia un altro progetto altamente segreto in cantiere, che coinvolgerà Jerry Scuddy. Nel corso del programma, come ha anticipato Michelle, ci saranno anche ospiti speciali come Eros e Aurora. Sarà un momento di celebrazione, soprattutto per Eros, e sentiremo le sue emozionanti parole sull'essere nonno e su tutto ciò che essa comporta. Riguardo al suo rapporto con Eros, Michelle ha condiviso Il legame con mio figlio è il miglior investimento che si possa fare nella vita. Riconoscere che la genitorialità è un dono straordinario e richiede tempo è fondamentale. Inoltre, Michelle ha espresso speranza nel futuro, sottolineando l'importanza di volersi bene reciprocamente e di preservare ciò che è bello. Questo è il suo obiettivo sia con Eros che con Tommaso. Auguriamo tutti quanti a Michelle un futuro pieno di felicità e soddisfazioni. Vi piace questa famiglia? Scrivi un commento.